Ci sono voluti sette anni dall'approvazione dell'ITER da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio Comunale, ma oggi è in realtà il nuovo piano regolatore generale del porto di Vasto. Il primo risale al 1969, 45 anni fa, una giornata storica per la città e per l'Abruzzo. Il porto di Punta Penna infatti è pronto a rivestire un ruolo strategico nell'Adriatico ma anche in chiave intercontinentale, soprattutto per i movimenti commerciali, ruolo evidenziato anche dai tecnici che hanno sottolineato gli aspetti relativi alla sicurezza dell'accesso alle banchine, l'aumento dei fondali e delle aree di manovra, oltre che quelle di stoccaggio merci, i raccordi con la ferrovia e la riduzione della manutenzione. Alla presentazione del nuovo piano regolatore è intervenuto anche il governatore Gianni Chiodi. Grazie ad un'oculata amministrazione ha sottolineato la regione sarà in grado di erogare come premio per il risanamento addirittura 60 milioni di euro l'anno per la realizzazione di questo porto che prevede una spesa finale di circa 120 milioni di euro. Ma la buona notizia è che l'Abruzzo a partire dal 2015 avrà dotazioni finanziarie senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini e senza fare ulteriore debito che saranno pari a 60 milioni di euro l'anno in più. Perché questo? Perché avremo il premio del risanamento, avremo finito a pagare le cartolarizzazioni che furono fatte nel 2005, una quota delle cartolarizzazioni che furono fatte per i debiti disastrosi della sanità e come una famiglia che smette di dover pagare una rata di mutuo si troverà a poter beneficiare di 60 milioni di euro l'anno in più. Il premio del risanamento, questo permetterà di investire e la scommessa è di investire sui sistemi ovviamente che determineranno un rafforzamento del nostro sistema produttivo. Perché? Perché questo significa occupazione, questo significa benessere, questo significa sostegno al welfare, meno ansia e meno problemi per i cittadini e quindi in qualche modo una maggiore aspirazione a quelli che possono essere i processi di felicità di ciascuno di noi. Questa è la scommessa e questa sulla quale si impegna questa parte politica.